I finanziari di Cosenza hanno notificato un decreto di sequestro preventivo nella forma per equivalente di importo di 280 mila euro nei confronti di cinque soggetti che incassavano indennità pensionistiche erogate dall'Inps a favore di familiari deceduti. I preliminari accertamenti svolti dai finanziari avevano evidenziato l'anomale incasso da parte di numerosi ultranovantenni di trattamenti pensionistici. Rilevata l'anomalia, si è proceduto a verificare la posizione di oltre 15 mila soggetti beneficiari di pensione e rientranti negli elenchi nominativi forniti dall'Inps. Attraverso l'incrocio dei dati presenti nelle diverse banche dati e le anagrafe di diversi comuni della provincia di Cosenza, è stata verificata l'effettiva esistenza in vita all'eventuale decesso dei soggetti beneficiari della pensione. Dal riscontro eseguito è emerso che alcuni trattamenti pensionistici continuavano ad essere erogati anche dopo la morte del relativo beneficiario, circostanza confermata dai successivi approfondimenti eseguiti presso gli intermediari finanziari. In particolare all'esame delle movimentazioni dei conti è emerso che le somme erogate dall'Inps venivano incassate da terzi soggetti cointestatari o delegati ad operare sui conti del beneficiario deceduto. Fra i casi scoperti dai finanzieri quello di un sessantenne che ha beneficiato di oltre 90.000 euro per aver incassato illecitamente la pensione del padre deceduto nel 2010. Per tutti e cinque gli indagati il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Cosenza ha disposto un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto dei reati.